Fornavo Taro, serata opportunità per vivere in Appennino. Mercoledì 22 marzo alle ore 21 al Foro 2000 di Fornavo Taro, presso il circolo Forum Novum, è in programma un interessante stage su opportunità per vivere in Appennino. Lo stage è organizzato dall'Associazione Bontà dell'Appennino in collaborazione con la Confesercenti di Parma e la Bed & Breakfast di Parma per spiegare le regole e la promozione marketing per chi vuole realizzare nuove attività a conduzione familiare e commerciale in Appennino. Sarà Stefano Cantoni, responsabile dell'Asso Turismo Confesercenti, Bed & Breakfast di Parma e coordinatore della cabina di regia dei privati in destinazione turistica Emilia, ad illustrare le regole e le opportunità per realizzare nuove attività familiari e commerciali. Matteo Orlandi, invece, membro dell'Aggiunta e Presidenza Provinciale Confesercenti Parma, imprenditore esperto di social marketing, spiegherà la comunicazione digitale e il cliente social. Posti limitati Per informazioni e prenotazioni, info-bontà-dellappennino.it oppure Alberto 338 15 39 333 Francesca Leoni, Tg Parmense Francesca Leoni, Tg Parmense